Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi voglio provare queste nuove farine del molino cipolla. Lo conoscete già questo molino, il molino di Terracina, anche perché ho fatto già del pane con le loro farine che sono veramente ottime. Ora voglio provare questi tipi nuovi che hanno messo in commercio e inizierò con la farina integrale saporita. Dentro c'è integrale, c'è germe di grano e semola rimacinata di grano arzo. Se non le trovate in commercio potete tranquillamente ordinarle online. Bene, andiamo a vedere come fare questo impasto. Allora, questa è la mia passamadre solida, che è la mia passamadre solida. che ho rinfrescato ormai più di quattro ore fa. Eccola qua. È pronta, ha raddoppiato di volume ed è pronta. Questa è la farina integrale, la farina integrale del molino cipolla. Integrale e saporita, perché dentro c'è, oltre all'integrale, c'è la semola rimacinata di grano arzo e il germe di grano, quindi sprigionerà poi un sapore e profumo particolare. Bene, ho messo la passamadre spezzettata, ho preparato l'acqua, trovate tutte le dosi all'inizio e ho sciolto la mia passamadre con una parte dell'acqua. Ci verso poi la farina. Io in questo caso ho aggiunto anche 200 g di farina zero, sempre del molino cipolla. Faccio girare poi in planetaria, piano piano metto tutta l'acqua e aggiungo poi un cucchiaino di sale. Ok, giro per all'incirca dieci minuti. Una volta pronto l'impasto, eccolo qua, ho preparato una ciotola oliata, ce lo metto dentro e lascio riposare una mezz'oretta. Bene, è passato il tempo, inizio a fare le pieghe. Di queste pieghe ne farò due giri, con l'intervallo tra una e l'altra di un'ora, presso a poco, poi potete anche fare 40 minuti, non è che cambia. Io in questo caso l'ho tenuto un'ora e poi ho fatto l'altro giro di pieghe. Dopodiché ho coperto, l'ho tenuto prima di metterlo in frigo una mezz'ora fuori e poi ho messo in frigo fino al mattino dopo. Calcolate che ho fatto l'impasto il pomeriggio tardi. Eccolo qua, l'ho tirato fuori stamattina presto, diciamo alle sette, presso a poco, e l'ho tenuto due ore, due ore ad acclimatare, quindi altre due ore a lievitare a temperatura ambiente. Ora lo verso sul piano di lavoro. La prossima volta la proverò in purezza questa farina senza aggiungere la zero. Adesso non volevo azzardare, quindi l'ho usata così. Allargo l'impasto e vado a fare il primo giro di pieghe. Le classiche pieghe a tre. Sigillo bene per non creare poi dei vuoti all'interno. Cioè attacco, abbasso bene con le mani, però senza forzare molto. Piego ancora. Ok. Ora copro con una ciotola e lascio almeno mezz'ora, quindi mezz'ora o 40 minuti, va bene lo stesso. Poi si vede l'impasto che inizia ad adagiarsi, è una volta che riprende la lievitazione. E farò poi il secondo giro, quindi due giri di pieghe. Ho preso diverse farine, diversi tipi di farine al molino cipolla, come vi ho detto, online, le ordinate online. Delle volte vado anche giù perché qui dal mio paese a Terracina ci vuole presso poco un'oretta, sono 80 chilometri, mi piace anche andare al molino ogni tanto, però tranquillamente si possono ordinare online. Ho preso la farina ai 10 cereali, che mi piace molto, chiara e scura, con integrale. Poi c'è quella alla curcuma. C'è una farina di canapa che non ho mai usato e non so nemmeno come usarla, poi mi studio un pochino la cosa. Quindi il prossimo video magari adesso farò quello alla curcuma, che mi attira molto. Bene, qui ho finito di fare l'ultimo giro di pieghe. Le pieghe servono a migliorare l'elasticità dell'impasto, a migliorare quindi la maglia glutinica, e servono anche a far crescere il pane in altezza. Quindi sulla seconda lievitazione sono necessarie. Questo perché spesso mi fate delle domande sulle pieghe. Ok, ora vado a formare il panetto. Allargo l'impasto, provo a fare un altro tipo di formatura, che ho visto da un amico che seguo su internet, ci provo, altrimenti procedete come meglio credete, rotolate, piegate, fate la pagnotta. Io farò un panetto, un filone, un po' cicciottello. Quindi piego quasi fino su, in questo modo. Abbasso sempre con le mani. E piego i lembi al centro, così. Vabbè, non sarò brava come il mio amico che vedo, però ci provo, voglio cambiare un pochino e riprovare ancora. Ok. Piego ancora. Vedete come si vede bene il germe di grano che è dentro la farina e anche l'integrale. Chiudo bene in questo modo, chiudo ancora, così, e formo questo panetto. Ho preparato anche il cestino. Eccolo qua. Ok. È pronto. Chiudo bene la parte, la parte sotto, che poi nel cestino la vado a mettere sopra perché io ribalto un po' l'area. Quindi, ora ci sarà bisogno di un'altra lievitazione. Non vi dico i tempi perché dovete valutare d'occhio. A me ci sono volute all'incirca quattro ore, anche perché la temperatura si è abbassata. Siamo in ottobre, quindi dipende molto da la temperatura. Per crescere, per aumentare di volume, poi fate la prova a dito, per vedere. Ecco qua, lo metto al caldo. Dopo all'incirca quattro ore, controllo. è quasi pronto. Intanto mi accendo il forno, quindi ci vorrà una mezz'oretta prima che arrivi a temperatura. La prova a dito, quando non va più su, non dovete farlo passare di lievitazione, quindi è pronto. Quando va su, lentamente. E quando non va più su, dovete correre ad infornare. Bene, io lo ribalto qui sulla carta forno, nel frattempo ho messo un'altra teglia dentro il forno, quindi a scaldare verbenino. Ci metto un po' di semola sopra. Un pochina, non molta. Ora farò un taglio. Ho il forno, naturalmente l'ho messo al massimo a 250, con un pentolino dentro per creare vapore. Poi quando in forno do anche una spruzzata con lo spruzzino. Taglio con il mio bisturi. Prima incido e poi affondo un pochino così, per traverso, diciamo, con la lama un po' piatta. Se volete fate qualche disegnino, ma non sono necessari, eh. Qui li ho fatti velocemente, scusate mi ha saltata la sequenza. Vi ripasso un attimino. Questi sono solo per l'estetica, quindi appena un piccolo intaglio. Ok, ora io farò scivolare, tiro fuori la teglia calda dal forno. Faccio scivolare la carta forno. E vado subito ad infornare. Quindi ho messo sulla teglia calda e ho infornato. Ho dato una spruzzatina di vapore. Dopo all'incirca 50 minuti è cotto. Però io, dopo i primi 20 minuti, ho abbassato il forno a 220, poi gradualmente anche a 200. E gli ultimi 10 minuti li ho lasciati a spiffero. Bene, l'aspetto mi sembra molto molto bello. Il profumo è divino. Aspettiamo un pochino che si raffreddi qualche ora e vediamo la fetta. Eccolo qua. Proviamo a tagliare. Lo sento un pochino morbido. Forse dovevo allungare un pochino di più i tempi di cottura. Un profumino però. Beh, io direi che va bene. Bello, molto bello. Sicuramente sarà molto molto buono. Ora taglio delle fette perché mi piace anche surgelarlo e averlo di scorta nel freezer. Bene amici, vi ringrazio della visione. E ci vediamo prossimamente per un altro video. Ciao a tutti.